Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è un tempo complicato, affollato, occupato o preoccupato. È sempre poco, non basta mai, ci sono tante cose da fare. Chi ha una famiglia impara presto a risolvere un'equazione che neppure i grandi matematici sanno risolvere. Dentro le 24 ore ce ne fa stare il doppio. È così, eh? Ci sono mamme e papà che potrebbero vincere il Nobel per questo, eh? In 24 ore fanno 48. Non so come fanno, ma si muovono e fanno. È tanto lavoro in famiglia. Dopo aver riflettuto su come la famiglia vive i tempi della festa e del lavoro, Papa Francesco si è soffermato oggi sul tempo della preghiera. Durante l'udienza generale numero 100, dall'inizio del pontificato, in piazza San Pietro, Papa Bergoglio ha sottolineato che lo spirito della preghiera riconsegna il tempo a Dio. Esce dall'ossessione di una vita alla quale manca sempre il tempo e ritrova la pace delle cose necessarie. Per non essere schiacciati dagli impegni quotidiani, quindi i fedeli dovrebbero coltivare nel cuore un amore caldo per il Signore, riconoscendolo come la carezza che ci tiene in vita. Di qui l'invito a leggere ogni giorno un passo del Vangelo, meditandolo in famiglia, a insegnare ai piccoli a farsi il segno della croce, a pregare intorno alla tavola. Solo in questo modo lo spirito della preghiera riscalda il tempo e l'intera vita familiare viene avvolta nel grembo dell'amore di Dio. Grazie a tutti.